Salve a tutti ragazzi e benvenuto in un nuovo video di Doran Red Come vedete sono ritornato dopo tantissimo tempo con il mio canale E spiego i motivi per cui c'è stata questa mia assenza E vi dirò anche il motivo per cui sono ritornato e cosa voglio fare con il mio canale Mentre giocherò a questo gioco abbastanza particolare Però tutto ciò è per fare una chiacchierata e farvi capire cosa voglio fare con il mio canale Bene ragazzi, prima cosa, partiamo dalla prima parte insomma La prima parte è perché ho smesso di fare video Spesso nei miei video ho detto Allora leggiamo prima cosa dice questo tizio Vai, si facciamola Ok, tornando a noi La cosa più importante che volevo dire è perché ho smesso Ho smesso perché mi sono trasferito Spesso anche nei miei video l'ho detto che dovevo trasferirmi prima o poi E la cosa infatti è successa E quindi non ho mai avuto tempo, non ho mai avuto luogo e opportunità di fare video Adesso che comunque lavoro, ho più stabilità Anche se vivo attualmente a casa di mio fratello Però comunque tra un mese, uno o due mesi dovrò prendere, avrò la mia casa Quindi significa comunque più attività anche per YouTube E anche in questo periodo che sarò qui Voglio fare, voglio portare video per il mio canale E vi spiegherò che cambiamenti ci saranno però per questo canale La prima cosa più importante che voglio fare è Basare il mio canale sui giochi da tavola Perché sui giochi da tavola? Io feci due video, anche se sono di scarsa qualità Hanno avuto, tra virgolette, un buon successo Nel senso che ci sono state molte persone Che hanno, insomma, apprezzato questi video E sinceramente, attualmente, in questo periodo Credo di poter portare la qualità in questo tipo di video Perché? Perché comunque la possibilità di comprare una fotocamera Anche se adesso uso la mia webcam Anche se c'è scritto sopra Full HD una webcam economica E una risoluzione Full HD reale dello schermo Rovina tutto il video Ok, adesso che prenderò la fotocamera Avrò la possibilità di fare Avrò la possibilità di riprendere praticamente Giochi da tavola da un'angolazione diversa Con una qualità maggiore E spero anche quella parlata E voglio praticamente portare canale Alla qualità che è sulla quantità Parlato di questo Che la parte, la colonna principale del mio canale Saranno i giochi da tavola Ci saranno altre cose a seguire La seconda che voglio portare invece sono le live A me piace fare tanto le live Perché comunque sono molto più spontanee E anche divertenti Cosa voglio fare però in realtà? La cosa che vorrei portare anche Oltre le live E sono i gameplay Che tipo di gameplay però? Non saranno più quei giochi come Europa Universalis, Astronaut, Minecraft Che sono comunque Che all'inizio sono divertenti Che trezzo, quarto episodio Lì finisce tutto E inizia a diventare noioso Voglio portare video come The Room Che è stata una delle prime serie Che ho portato sul mio canale In cui era un gameplay Di un gioco con un senso logico e obiettivo C'era la storia Finiva il gioco Infatti il gioco è finito e durato Sette, otto episodi Nove episodi Non ricordo nemmeno precisamente Però è finito Quindi ha un senso molto più logico E vorrei portare giochi del genere Che anziché Tipo ad esempio Questo qui che adesso sto giocando Sto giocando E comunque ci posso portare un video Mostro il gioco Ci facciamo delle risate E poi dopo finisce lì Un gioco che ci fai un mini gameplay E' finita lì Oltre questo Io sinceramente vorrei Portare il mio canale Anche altre cose Ad esempio sono i viaggi che farò Tra virgolette documentari Dei miei viaggi E anche video In cui farò delle cover Come avete visto Non so se molti loro hanno visto Ho fatto una cover Con Flauto e Kazoo Di Game of Thrones E comunque Anche se è venuto Tra virgolette Uno schifo Non è che piace tanto Comunque so che la qualità Non è delle migliori Comunque un microfono Comunque sta andando anche a puttane Quindi prima o poi Lo cambierò anche quello Trasciando questo Comunque io Suono la chitarra Vorrei fare delle cover Suonando solo la chitarra C'è solo un'immagine Non ci sono le 8000 immagini Che ho messo Tipo di Game of Thrones Che sono Due Kazoo Tre Flauto Uno La batteria con il corpo E Quindi è anche molto più difficile Invece con solo la chitarra Con la musica sotto Che dovrò Seguire E' un po' diverso Quindi può riuscire anche meglio Va bene Comunque questi suono Praticamente Cosa voglio basare il mio canale Il mio canale sarà basato Principalmente Di giochi da tavola A seguire Dalle live Tra cui sotto ci saranno Gameplay Video di Appunto cover Mentre suono Di viaggi Anche Altre cazzate Se ci saranno Questo Questo poco Ma sicuro Per farvi capire Comunque il canale Sarà basato In questo modo E vorrei Tipo in una settimana Portare Due tre video Un video Due video Che anziché Sette Con scassa qualità Praticamente Ovviamente Ovviamente Due tre video Due video Uno Ci sta Però Verrà comunque Rimpiazzato il fatto Che io farò Le live Fatto le live Ho perso anche il gioco Perché non sto nemmeno Leggendo la storia Ok sono morto Anna invece Mi sono salvato Mi sono salvato Per l'abilità Che comunque Poi sto gioco In caso Ci farò un mini gameplay E spiegherò un po' Di cosa si tratta Anche se sono Passati mille anni Da quando gioco a questo gioco Mi diverto ogni tanto Passare su questo Piccolo videogame Vabbè Tralasciando questo Vi ho spiegato tutto Spero che Il mio canale Tralasciando ciò Spero di averlo detto tutto Spero di portare Il mio canale avanti Con tutte queste cose Comunque la possibilità Di farlo Probabilmente lo farò Ci vediamo Al prossimo video ragazzi Spero che sia stato tutto chiaro Ciao